Carissimi amici appassionati di retro gaming, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di un computer che ha davvero scritto la storia dell'informatica. Pensate un po' che è stato prodotto per 12 anni ed ha venduto circa, almeno così si stima, 30 milioni di esemplari. È impossibile che qualcuno di voi non lo conosca ed è quasi impossibile che qualcuno di voi non lo abbia utilizzato almeno una volta nella vita. Stiamo parlando del Commodore 64, del famoso biscottone, lo avete già visto nelle pagine social, vi ho dato una chicca, un'anteprima. Oggi andremo invece ad effettuare l'unboxing, lo andremo ad aggiornare, lo andremo a provare. Naturalmente questo non è l'originale Commodore 64, ma è una riedizione creata dalla Retro Games Ltd distribuita da Coach Media e all'interno troviamo anche un software italiano della Cloanto. Che cos'è quindi in realtà questo che è fra le mie mani? È una console commemorativa che deriva un po' da tutte quelle console mini che stanno nascendo un po' per moda per andare ad accontentare tutti coloro che hanno i capelli bianchi come me e farli tornare un po' agli anni della giovinezza. Ne abbiamo viste tantissime, sia della Sega, della Nintendo, abbiamo visto anche la PlayStation 1, abbiamo visto il Neo Geo, abbiamo visto il Capcom, insomma ne vediamo veramente tante di queste mini console. Il Commodore 64, il primo, The C64, io l'ho saltato perché effettivamente era una mini console con la tastiera non funzionante, quindi di dimensioni ben ridotte rispetto a questa e sinceramente avere un Commodore 64 da collegare alla televisione, ok, tutto aggiornato, lo possiamo collegare in HDMI, tutto quello che ci pare, ma con la tastiera non funzionante sinceramente per me era uno scempio e quindi io non avrei mai pensato, mi sarebbe mai passato per l'anticano nel cervello di andarla ad acquistare. Quando però ho visto che sarebbe uscita sia l'edizione VIC-20 sia l'edizione The C64, quindi del Commodore 64, in versione full size, che è quella che è qui fra le mie mani con la tastiera funzionante ed il joystick finalmente con il micro switch, mentre il The C64 Mini non aveva nemmeno il micro switch, quindi insomma non era nemmeno performante, non me la sono lasciata scappare. Soprattutto ragazzi, attenzione perché verso aprile uscirà anche la versione, anche se mini, della MIGA 500, insomma ha fatto un po' proprio la mia infanzia, io la MIGA 500 ce l'ho avuto per anni, l'ho adorato, ci ho giocato tantissimo e quindi forse sul canale lo vedremo, anche se in versione mini lo vedremo e sono in trepidante attesa della versione poi maxi con la tastiera funzionante, a quel punto chiaramente rimpiazzerò la versione mini con la versione full size anche della MIGA 500. Quindi per questo io non vi avevo ancora parlato della ridizione, del rifacimento del Commodore 64 perché attendevo che arrivasse la notizia ufficiale dell'uscita della MIGA 500 per parlarvi prima del Commodore 64 e poi della MIGA 500. Quindi andiamo un po' a ripercorrere la storia di Commodore e poi anche di Amiga utilizzando le loro nuove console. Naturalmente andremo a vedere come è fatta questa console, ma prima non possiamo che non fare un accenno alla storia della Commodore. Naturalmente lo facciamo in pillole, non è questo il video dedicato alla storia della Commodore, questo è il video dedicato al DC64, ma naturalmente non possiamo non parlare del marchio. E quindi Commodore viene fondata nel 1954 da Jack Tramiel, un imprenditore polacco che si trasferisce in America, tra l'altro sfuggendo anche all'olocausto, con in testa un progetto, cioè quello di fondare una azienda produttrice di macchine da scrivere. Purtroppo però alla fine degli anni 50 abbiamo già un primo in topo, in quanto i giapponesi iniziano ad esportare macchine da scrivere a costo naturalmente più basso in America e costringono il buon Tramiel a spostare la sua produzione dalle macchine da scrivere alle calcolatrici meccaniche. A fine degli anni 60 abbiamo un po' lo stesso problema per la Commodore, cioè i giapponesi iniziano a portare in America le loro calcolatrici meccaniche. A quel punto che cosa succede? Jack Tramiel inizia a spostare la produzione nuovamente dalle calcolatrici meccaniche a quelle elettroniche utilizzando componentistica Texas Instruments. La stessa azienda, la stessa Texas Instruments, nel 1975, essendo il principale fornitore di componenti elettronici della Commodore, decide di entrare direttamente nel mercato delle calcolatrici elettroniche producendole con un suo brand, con un suo marchio direttamente e quindi riducendo anche i costi. E questo stravolge totalmente i piani della Commodore che si trova nuovamente costretta a riorganizzare la sua società. E questo avviene nel 1976 con l'acquisizione di Moss Technology che produce circuiti integrati, infatti il tutto viene rinominato Commodore Semiconductor Group anche perché non volevano più dipendere da fornitori terzi per quanto riguarda la componentistica elettronica e decidono chiaramente di produrseli da sé. Questo avrebbe creato molti meno problemi in futuro. L'acquisizione di Moss Technology comprende anche l'acquisizione di che cosa? Del microcomputer prodotto da Moss, cioè dal KIM-1 ed era tra l'altro un microcomputer basato sul microprocessore sempre di Moss, cioè il 6502. L'acquisizione della Moss però prevede anche un altro elemento chiave cioè l'acquisizione di tutti gli ingegneri elettronici esperti dell'epoca che erano dipendenti della Moss Technology e tra questi c'era anche Chuck Peddle il quale convince Tramiel a concentrarsi sullo sviluppo dei personal computer ed era un mercato molto giovane e quindi anche molto promettente per l'epoca e quindi nel 1977 nasce il Commodore PET che montava una CPU appunto Moss 6502 ed aveva memorizzato nella ROM anche il linguaggio di programmazione Basic. In più nel 1981 che cosa succede? Arriva un suo successore del PET che comunque aveva già avuto un grandissimo successo tra l'altro aveva una tastiera con monitor integrato insomma già si configurava come personal computer però nel 1981 arriva il famosissimo e chi di noi non lo conosce? VIC-20 il VIC-20 fu un capostipide perché inizia ad integrare anche un chip sonoro ed un chip anche grafico tra l'altro a colori e quindi iniziamo a vedere un vero e proprio personal computer è stato stravenduto si poteva collegare ad un televisore invece che essere costretto ad utilizzare il monitor poteva montare varie periferiche tra le cartucce un lettore di cassette per i dati insomma aveva molte più possibilità di espansioni in più in quegli anni c'è stata anche una massiccia campagna di marketing unita al prezzo concorrenziale di 299 dollari addirittura il VIC-20 veniva venduto nei supermercati quindi era di super facile reperibilità. arriviamo quindi al 1982 data di introduzione di presentazione quindi di commercializzazione del Commodore 64 e questo rinnovato computer della Commodore venne commercializzato al prezzo di 595 dollari era molto simile al suo predecessore quindi al VIC-20 infatti le modifiche sostanziali erano interne avevamo un upgrade della memoria si passava a 64 kilobyte ed anche il processore era stato aggiornato avevamo un 6510 naturalmente avevamo sempre un processore audio e grafico dedicato ed il basic venne aggiornato alla versione 2.0 e come vi stavo dicendo all'inizio del video si stima che del Commodore 64 siano state prodotte circa 30 milioni di unità la sua produzione cessò nel 1994 e ne sono stati venduti tantissimi anche se andiamo a considerare che nel 1985 venne introdotto il Commodore 128 ancora con più memoria altri aggiornamenti tecnici sia hardware che estetici ma nonostante tutto il Commodore 64 e molte altre varianti di questi computer ce ne sono state tantissime magari poi di questo ne parleremo in un video dedicato il Commodore 64 fu davvero quello più famoso ma adesso dopo questo brevissimo genno storico vi direi di andare ad effettuare l'unboxing di questo fantastico The C64 prodotto dalla Retro Games Ltd venduto a circa 119 euro ragazzi naturalmente io vi lascio il link in descrizione qualora dovesse interessarvi si trova molto spesso in sconto soprattutto durante il Back Friday si è trovato intorno agli 80 euro quindi lo rende ancora più interessante andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione andiamo a vedere come è fatto poi procediamo alla prima accensione e la prova eccetera eccetera e quindi procediamo con l'unboxing ma non possiamo tralasciare di dare uno sguardo alla grafica della scatola del The C64 infatti va a riprendere quasi perfettamente quella che era la grafica del Commodore 64 originale anche la lista dei giochi naturalmente poi qui andiamo a vedere elencate i vari ingressi, le varie porte che ci sono ma adesso le andremo a vedere direttamente sulla console insomma una confezione davvero ben fatta questa di Retro Game Ltd come vi stavo raccontando ad inizio video la Retro Game è quella che produce questa console che tra l'altro è disegnata e progettata in Inghilterra naturalmente come prodotta in Cina all'interno troviamo il software dell'italiana Cloanto e viene distribuita da Coach Media allora andiamo ad aprire la scatola ci aiutiamo con il taglierino 1 e 2 questa si è già staccata mentre muovevo la scatola e c'è un'emozione che non riesco a nascondere in quanto andiamo a toccare nuovamente con mano il biscottone il Comodo 64 ragazzi è spettacolare vederlo qui dal vivo dopo tutti questi anni innanzitutto è fantastico il fatto che abbiano introdotto un copri tastiera quindi un copri console questo ci può essere anche utile contro la polvere quindi non è solo ai fini di confezionamento e di imballaggio insomma della console ma può poi essere tra l'altro utilizzato come copri tastiera contro la polvere eccola qui il nostro biscottone così come era chiamato il Comodo 64 che tra l'altro è praticamente delle identiche dimensioni anche la grafica dei tasti è praticamente identica al vecchio Comodo 64 naturalmente non possiamo qui vedere la scritta Commodore in quanto il marchio è sempre detenuto dall'azienda informatica olandese che praticamente lo ha sequestrato e nemmeno sotto forma di pagamento di un riscatto ha voluto rilasciare i diritti per utilizzare il nome Commodore e quindi viene usato il Desi 64 qui comunque con una grafica con questo bellissimo sticker colorato a destra abbiamo il led del Power abbiamo le feritoie così come erano effettivamente presenti nel Comodo 64 la tastiera ha questo color marroncino scuro mentre i tasti di funzione sono di una specie di grigio come abbiamo visto la parte importante di questo computer e quella più emozionante sarà quella di premere nuovamente i tasti il suono non è tanto clicchi come le tastiere dell'epoca solamente lo richiama un po' il tasto spazio vediamo se riesco a farlo sentire mentre sono un po' più sordi i clic dei tastini però sarà comunque emozionantissimo andare a digitare nuovamente su una vera tastiera del Comodo 64 andiamo a vedere la dotazione delle porte allora di lato abbiamo tre porte USB possono essere utilissime per l'utilizzo del primo joystick del secondo joystick di una pennetta USB tasto di accensione che nel vecchio Commodore 64 era proprio uno switch on off mentre qui abbiamo un tastino che effettuerà sia l'accensione che lo spendimento sul retro naturalmente non abbiamo tutte le porte che c'erano nel Comodo 64 il lettore cartuccia, il lettore led data set eccetera eccetera ma abbiamo un ingresso micro USB per l'alimentazione l'uscita HDMI per il collegamento alla televisione e una porta USB supplementare magari qui ci potremo andare ad inserire la pendrive USB di memoria dove andremo a caricare poi tutti i giochi questo ve ne parlerò fra un attimo sotto non abbiamo praticamente nulla tranne chiaramente le indicazioni sulla console numero di serie e quant'altro le prese d'aria sono finte in questo lato abbiamo quattro bei piedini antiscivolo e un'altra prese d'aria qui in basso inutile dire che questa console nonostante sia un po' pesantuccia intanto qui nel lato sinistro non abbiamo nulla e naturalmente non abbiamo nulla nel lato frontale inutile dire che questa console per quanto sia pesantuccia all'interno in realtà è un po' vuota in quanto la scheda è solamente in questa posizione quindi in concomitanza delle porte USB dell'accensione e dell'alimentazione la tastiera è una classica tastiera USB che è collegata alla piastra madre e della piastra madre ve ne parlo fra un attimo allora rinseriamo il copri tastiera e andiamo a scoprire cosa troviamo all'interno invece di questa scatolina dovremmo trovare naturalmente i cavi per l'alimentazione il cavo HDMI ed il joystick a micro switch eccolo qua infatti il primo che troviamo è proprio lui il joystick che in questa versione rispetto al C64 Mini lo vogliamo cambiare in quanto lo stick non è di colore rosso ma è di colore nero e abbiamo sempre gli stessi identici tasti ma questa volta abbiamo il micro switch infatti se andiamo a muovere il joystick possiamo sentire il suono dei micro switch questo rende l'utilizzo molto più semplice durante i giochi infatti la pecca principale del C64 Mini del C64 Mini era proprio l'assenza dei micro switch il joypad era molto duro non è che questo sia morbidissimo ma sicuramente questo sarà molto più preciso rispetto alla prima versione la porta usb naturalmente la console può utilizzare fino a 4 con l'ultimo aggiornamento fino a 4 joystick all'interno che abbiamo un'altra scatolina questa dovrebbe contenere i cavi la cavetteria e l'alimentazione eccolo qui alimentatore noi ovviamente siamo in inghilterra noi abbiamo la spina inglese questo alimentatore eroga fino a 2 ampere quindi questa console può essere alimentata anche tranquillamente da un power bank poi abbiamo un cavo usb micro usb per l'alimentazione da collegare all'alimentatore ed il cavo per il collegamento alla tv infine non abbiamo altro che un manualetto vediamo se riesco a tirarlo fuori manovetto di istruzioni che va tra l'altro a richiamare sempre la grafica del vecchio manuale del Commodore 64 dovremmo anche avere la lingua italiana in teoria vediamo un po' eccola qua si abbiamo anche la lingua italiana e quanto può essere emozionante ragazzi avere nuovamente fra le mani un Commodore 64 tutto questo non può essere trasmesso da una console mini con una tastiera non funzionante l'effetto nostalgia del poter maneggiare una console con il form factor originale ed una tastiera realmente funzionante così come vedremo dopo quando la collegheremo al televisore addirittura il led rosso che si andrà ad accendere è davvero qualcosa di incredibile naturalmente io lo so che questa non è la console originale all'interno troviamo una semplicissima la mainboard con un emulatore la mainboard in questione è una Allwinner A20 con un chipset Cortex A7 dual core una GPU Mali 400 insomma ha tutto quello che può essere necessario per far funzionare correttamente l'emulatore che è installato anche la replica comunque di replica si tratta del joystick Competition Pro perché l'originale del Commodore 64 era il fantastico Competition Pro è davvero ben realizzato anche questo ha dei gommini alla base si impugna in maniera perfetta lo trovo solamente un pelino rigido dovrà essere forse un po' più morbido ma gli switch si sentono e si sentono benissimo davvero fantastica questa replica adesso prima di collegarla andiamo a vedere un po' secondo il mio parere quali sono i pro e i contro di questa console all'interno sono precaricati 64 giochi più altri due o tre non ricordo bene ne sono stati inseriti tra l'altro sviluppati tipo nel 2020 che voi ci credete no c'è ancora gente che sviluppa per i Commodore 64 tra i pro infatti troviamo che cosa? che la Retro Games Ltd non ha bloccato i giochi il numero dei giochi in dotazione con la console come si fa spesso come spesso quasi tutti fanno con le console commemorative in formato mini ma qui noi possiamo non solo eseguire aggiornamenti firmware quindi la Retro Games rilascia sul proprio sito web degli aggiornamenti e quindi questa console sarà costantemente ci saranno costantemente degli upgrade per questa console ma non è bloccata quindi noi potremo andare ad inserire in una chiavetta USB formattata Fat32 i software, i giochi che vorremmo utilizzare su questa console andare ad inserire la chiavetta nella porta USB e quindi effettuare o gli aggiornamenti firmware oppure potremmo tranquillamente navigare anche all'interno delle cartelle andare a selezionare delle ROM che siano esse in cartuccia che siano esse in formato dischetto che siano esse in formato addirittura cassetta perché l'emulatore emula perfettamente addirittura i tempi di caricamento di una cassetta non solo all'interno possiamo anche scegliere di far partire il PC diciamo la console con il carosello dei 64 giochi oppure direttamente il Basic quindi insomma con questa console nonostante l'emulazione del Basic fosse presente anche nella versione mini alla quale però dovevamo collegare una testera esterna qui invece possiamo andare anche a eseguire delle linee di programmi in Basic quindi possiamo andare a listare in Basic questo può essere anche carino per far avvicinare i nostri figli insomma i giovani al linguaggio di programmazione così come poteva essere il Basic comunque un'idea di cosa significhi programmare lo possiamo avere il tutto con un prezzo ridottissimo può essere questo del DC 64 mini a questo punto ragazzi io sono impazientissimo di provare di vedere quali titoli sono stati inseriti e di provare anche a fare cosa ne ho scaricato qualcuno che utilizzavo nella mia infanzia e lo andremo a provare sul DC 64 e dopo aver collegato il DC 64 alla scheda di acquisizione video io direi di procedere alla prima accensione ed anche all'aggiornamento del firmware che come vi dicevo si può facilmente scaricare dal sito della retro games l'ultima versione è la 1.6.1 e quindi andremo anche a vedere che versione ci sarà installata non appena avremo acquistato la nostra nuova console e quindi clicchiamo il tasto di accensione l'ho collegato al power bank ma anche per effettuare una prova il power bank ha un uscito di 2A e quindi visto che l'alimentatore originale era da 2A volevo effettuare un po' una prova ecco qui parte la schermata della retro games e la prima cosa che appare a video è la scelta della lingua all'interno del menu ci possiamo muovere tranquillamente con il joystick come possiamo vedere come vi dicevo è un po' duro ma la reattività assolutamente c'è la trasmissione a video è 720p quindi aspettiamoci una 1080p scegliamo l'italiano abilitiamo l'uscita a 50Hz e adesso ci fa scegliere la modalità di boot fra il carosello di tutti i giochi oppure come vedete il sistema classico cioè quello che parte con la schermata del basic come vi dicevo qui potremmo anche scegliere di visualizzare il WIC20 quindi andiamo sul carosello ed ecco qui il carosello dei giochi con una musichetta ecco quella che potete sentire magari poi il volume lo abbassiamo così non ci dà fastidio qui abbiamo il carosello dei 64 giochi con una descrizione tra l'altro in italiano del gioco l'autore il composito della musica il genere del gioco e l'anno di uscita facciamo una velocissima carrellata ma abbasso la musica perché dà anche abbastanza fastidio allora abbiamo l'attacco dei camelli mutanti molti ragazzi di questi giochi non sono ultra famosi o perlomeno io non me li ricordo devo dire la sincera verità ma non abbiamo tutte licenze AAA naturalmente c'è qualche gioco famoso ed altri invece sono stati inseriti perché le licenze costavano pochino e per fortuna abbiamo la possibilità come vi dicevo di inserire qualsiasi gioco noi vogliamo tramite chiavetta USB e quindi non abbiamo alcun problema cioè potevano tranquillamente consegnarcelo anche vuoto e noi lo avremmo riempito con i giochi in nostro possesso oppure con i giochi in comune che ci piacciono vediamo un po' vedete questo è il carosello abbiamo California Games abbiamo anche sia il California Games sia dobbiamo avere anche Winter Games Battle Valley l'ho visto prima c'è Battle Valley e poi vediamo un po' cos'altro abbiamo chips challenge confusion sono tanti ragazzi sono 64 Cosmic Cosmic Casway questo me lo ricordo questo si questo me lo ricordo Destroyer era una simulazione di scontri navali Galenzia Mini sembra un Galaga ma effettivamente Grid Runner Heartland vediamo un po' cosa abbiamo questo è Bover Bover mai sentito ah Impossible Mission ragazzi Impossible Mission è un must anche Impossible Mission 2 insomma qui abbiamo tutti gli altri titoli vediamo un po' vi faccio vedere al volo abbiamo Paradroid Pit Stop 2 fantastico gioco di corsa automobilistiche Psichedelia Rama Robin in the Wood vedete qua Speedball 2 quanto ci ho giocato ragazzi a Speedball 2 Spindisi 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 questo era fichissimo anche Spindisi poi abbiamo Steel mi ricordo anche Steel Street Sport Baseball e Basketball entrambi Summer Games 2 Super Cycle bellissimo questo anche me lo ricordo Sword or Fargoll questo no come vi dicevo non sono tutti ultra famosi comunque ne abbiamo come avete visto Trailblazer anche Trailblazer non lo ricordo fantastico Who There's Wins sia l'1 che il 2 ragazzi questi ci abbiamo giocato Winter Games Winter Games anche ci abbiamo giocato tantissimo War Games molto 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 divertente vediamo però adesso dopo aver fatto questa veloce carrellata dei giochi con il terzo tasto qui sotto del joypad vedete possiamo stoppare la musica con il primo invece possiamo andare a randomizzare il carosello dei giochi andiamo a vedere la prima schermata questa dello schermo ci permette di scegliere fra pixel perfect europeo 4 terzi e americano 4 terzi quindi il formato video tutti e tre li possiamo anche scegliere con il filtro CRT questo che crea queste bande ok dopo aver scelto il formato a questo punto lasciamo pixel perfect andiamo a vedere ci fa riscegliere la lingua impostazioni abbiamo il modello del computer vedete abbiamo C64 PAL C64 NTSC VIC-20 PAL e VIC-20 NTSC possiamo scegliere la modalità di boot fra carosello e classico questo adesso la vediamo ha la modalità classica note legali informazioni di sistema abbiamo il film vedete 1.3.0 quindi abbiamo un aggiornamento di film da fare adesso ci dice aggiornamento del film non trovato molto importante fare l'aggiornamento del film perché va ad introdurre non solo delle migliorie chiaramente software va ad introdurre dei nuovi giochi ma soprattutto delle nuove funzionalità sull'emulatore come per esempio espansioni di memoria abbiamo il supporto con gli ultimi aggiornamenti abbiamo anche il supporto del mouse e per chi sta aspettando di utilizzare GOS chiaramente serve il mouse e poi vedete abbiamo passa modalità classica se clicchiamo su passa modalità classica adesso si aprirà la schermata del basic ed eccolo qui il comodo 64 basic in versione 2 e 64k di ram e chiaramente adesso abbiamo anche la vedete la tastiera funzionante e possiamo scrivere utilizzando il nostro comodo 64 il DC64 infatti vi proviamo a dare un comodo diamo il load lui ci dice di premere play sul dataset è veramente fantastico e se vogliamo richiamare il menu clicchiamo sull'ultimo tasto quindi questo qui che ha le tre icone sul joypad possiamo salvare e caricare la partita abbiamo vedete l'accesso dei dati abbiamo la schermata di nuove opzioni che ci permette di tornare alla modalità carosello oppure resettare computer alle impostazioni di fabbrica cliccando su torna al carosello torniamo nella schermata di selezione dei giochi cosa succede se andiamo ad inserire una pendrive all'interno di una porta usb adesso dovrebbe apparire l'icona della pendrive eccola qui vedete è apparsa l'icona della pendrive a questo punto possiamo andare a navigare all'interno della pendrive noi possiamo navigare all'interno delle cartelle quindi possiamo creare la nostra libreria giochi personalizzata all'interno della pendrive io eventualmente in descrizione vi lascio un consiglio una pendrive veramente discreta di sandisk che può essere da 32 da 64 giga talmente discreta che se la lasciate collegata dietro al pc poi non ve ne accorgerete nemmeno della sua presenza ho anche scaricato il firmware che si trova nella root principale della chiavetta infatti adesso se noi torniamo indietro e andiamo di nuovo nelle impostazioni di sistema e andiamo sulle informazioni di sistema ecco qui lui ci dirà l'aggiornamento del firmware trovato 1.6.1 l'ultima versione presente sul sito vuoi fare l'applicare del firmware diamo applica e da questo punto vedete partirà l'aggiornamento del firmware che come vi dicevo è importantissimo da effettuare e questo secondo me è uno dei pregi di queste nuove console in quanto abbiamo la retro games che segue lo sviluppo quindi aggiorna costantemente le nostre console e non le lascia nel dimenticatoio poi a prendere polvere e difficilmente ci riusciremo a stancare a questo punto del nostro comodo 64 o della miga 500 altrimenti gli aggiornamenti sono anche per le versioni mini tutto questo vale anche per le versioni mini qui dovremmo anche avere adesso aggiunto dei nuovi titoli vedete adesso abbiamo tutti gli anni vedete per esempio eccolo qui Barsney Badger l'abbiamo dell'anno 2016 e in più dovremmo avere vedete del 2008 un gioco per VIC-20 tra l'altro vi faccio vedere la schermata per VIC-20 se andiamo nelle impostazioni io andrei anche a farvi vedere il modello di computer andiamo a selezionare VIC-20 PAL torniamo indietro se passiamo adesso nella modalità classica adesso dovrebbe aprirsi eccolo qui il basic del VIC-20 è veramente fantastico ragazzi è veramente eccezionale quanti ricordi quanti ricordi ragazzi spettacolare opzioni torniamo alla modalità carosello adesso siamo nella modalità VIC-20 ma nella modalità carosello ho visto che cambia poco torniamo a C64 PAL e proviamo a far partire un titolo e lo facciamo partire anche per provare i filtri grafici quindi io direi di provare un titolo di corse l'avevo visto C6 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 Pitstop 2 eccolo qui lanciamo Pitstop 2 i caricamenti naturalmente sono immediati rispetto al normale Commodore 64 eccolo qui possiamo scegliere il numero dei giocatori il tracciato spostiamoci in Italia dove abbiamo Valle Lunga tre sono il numero dei giri difficoltà super principiante non voglio farmi oltre più che principiante driver1 seleziona anzi digita il tuo nome è qui con il mini non lo potevamo fare ragazzi dovevamo collegare una testa USB qui invece possiamo tranquillamente scrivere far west eccolo qua ce l'abbiamo clicchiamo su return e poi premiamo il nostro acceleratore allora la risposta molto 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 reattiva dei microswitch del joystick si fa sentire fin da subito eh vedete anche anche l'emulazione è ottima e questo ci fa veramente tornare ragazzi indietro nel tempo quante ore abbiamo speso su questi titoli io però vorrei provare il filtro CRT per vedere la differenza quindi clicchiamo di nuovo sul menu facciamo esci dal gioco e lanciamo un anzi selezioniamo il filtro CRT quindi andiamo su no era qui sullo schermo selezioniamo selezioniamo CRT pixel perfect e torniamo su pitstop 2 adesso con il filtro CRT anche per vedere un po' le differenze eccolo qua un perfetto la perfetta simulazione riscriviamo il nome la perfetta simulazione ragazzi dello schermo del monitor a tubo cattolico dell'elettrovisore a tubo cattolico si vede non è un filtro fatto male come potete vedere un filtro fatto anche abbastanza bene simula perfettamente il tubo cattolico anche se chiaramente ormai con le nuove tecnologie difficilmente ci verrà da utilizzare un filtro del genere veramente per i più nostalgici o per qualche titolo e questo è ragazzi andiamo a vedere anche qualche altro qualche altro titolo usciamo dal gioco torniamo nella modalità pixel perfect senza filtri e proviamo per esempio Winter Games anche qui ragazzi ma che bello è giocare a questi titoli fatemi sapere nei commenti quanto ci avete giocato e qui abbiamo oltre alla cerimonia di apertura abbiamo tutte le competizioni direi di fare pratica su un evento e io ricordo che mi piaceva tanto il Bob e quindi andiamo a provare proprio questa disciplina dei caricamenti sono velocissimi ok proviamo Start mamma ragazzi che spettacolo mi sembra ecco stavo appena per dire mi sembra di averci giocato fino a ieri è veramente ragazzi un'emozione fantastica ok dei titoli magari poi ne possiamo anche parlare successivamente se volete vedere qualche titolo particolare fatemelo sapere qui nei commenti voglio farvi invece vedere come poter caricare un gioco da pen drive usb e tra tutti i titoli che abbiamo potuto provare sette e mezzo ragazzi io giocavo tantissimo con Gino al sette e mezzo nome del giocatore anche qui inseriamo il nome del giocatore diamo invio e questo era un gioco fantastico perché aveva la voce di Gino sintetizzata con quale potremmo giocare avevamo lui dà le carte avevamo 100.000 lire da giocare ragazzi proviamo a fare una mano puntiamo mille lire quante erano belle le mila lire come diceva Maurizio Battista andiamo invio lui ci serve carta perché abbiamo possiamo giocare con la tastiera possiamo giocare con la tastiera allora abbiamo un mezzo in mano quindi chiediamo una carta ancora mezzo quindi un'altra carta tre e mezzo più il nostro invece quattro rischiamo altra carta sei e mezzo con la carta che abbiamo sette quindi diamo con lo spazio stop speriamo di battere Gino ragazzi adesso ha due e mezzo in mano non sappiamo quale sarà la sua carta coperta e con un sette ha sballato vediamo le carte e ragazzi dopo aver battuto Gino io direi per non far durare il video anche cinque ore eventualmente sui giochi ci ritorniamo e come abbiamo visto amici tramite il nostro The C64 potremo rigiocare a tantissimi quei titoli che ci hanno fatto passare interi pomeriggi incollati alla tv l'emulatore devo ammettere che si comporta benissimo molto reattivo molto stabile non ha impuntamenti ed effettivamente il valore aggiunto cioè quello di poter intanto proviamo a segnare camisera proviamo a segnare il valore aggiunto dicevo quello di poter anche caricare dei titoli che ha il nostro possesso oppure che abbiamo scaricato da internet è davvero qualcosa di super comodo ok ragazzi io a questo punto faccio un'altra partita super cycle ma prima vi mando alle considerazioni finali e questo carissimi amici era quanto io avevo da dirvi sul The C64 naturalmente magari torneremo a parlare di lui dopo qualche altro aggiornamento firmware oppure se avete altri giochi che volete provare che volete vedere qui sul canale potremmo tranquillamente scaricare installarli e provarli su questa console insomma sicuramente torneremo a parlare di retro games tramite le nuove console della retro game ltd perché sono veramente interessantissime anche perché a breve arriverà la mica 500 e quindi mi raccomando non perdete i prossimi video approfittatene iscrivendovi al canale ed attivando la notifica della campanella in questo modo sarete anche avvertiti e se il video e se vi piaciuto lasciate un like perché sapete che è sempre gradito inoltre fatemi sapere nei commenti tutto quello che volete sapere su questo desi 64 oppure se avete altre domande se avete qualcosa da chiedermi se c'è qualcosa che io ho detto magari di errato all'interno del video e volete integrare tutto quanto qui sotto nei commenti e magari poi faremo un nuovo video introduttivo potremmo anche farci delle live su retro gaming sono tutte cose super interessanti e io con questo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento qua su youtube ciao a tutti da vostro farò questo ciao a tutti